Gennaio è il Mese della Pace, sabato in Piazza Beverini l'Azione Cattolica organizza una mostra. Esatto, essendo il Mese della Pace il settore giovani vuole provare a celebrare questa giornata allestendo una mostra fotografica che ha come obiettivo quello di sensibilizzare sul tema e far rendere conto che purtroppo ci sono ancora tanti conflitti nel mondo. Il nostro obiettivo finale è quello di presentare delle associazioni che sono attive nel territorio, nella città di La Spezia per la solidarietà e per la pace e far ragionare anche sul fatto che ognuno di noi può dare il suo contributo anche nel piccolo. Più nello specifico che cosa ci sarà in questa mostra? Nella mostra saranno presentate delle fotografie che illustrano appunto grandi conflitti mondiali ma anche scene di vita quotidiana che appunto non portano serenità, non portano pace ecco con al di sotto delle didascalie che invece in contraposizione vogliono invece richiamare messaggi di pace, solidarietà, fraternità ecco si vuole giocare un po' su questo contrasto poi senza fare anticipazioni invitiamo tutti a venire e a vedere la mostra ecco. Ecco queste foto rappresentano anche cose diciamo un po' più attuali? Sì esatto ci saranno delle immagini che vogliono farci ragionare su quello che sta succedendo adesso in Ucraina ma ci saranno anche immagini storiche dato che è stato di recente il giorno della memoria vogliamo comunque rappresentare anche questi eventi qua.